Nascerà all'interno dell'area delle piscine Vigor sulla Litorania nel comune di Salerno l'USCA a servizio del comune capoluogo. Salerno con i suoi 135 mila abitanti avrà quindi finalmente il servizio di unità speciale di continuità assistenziale invocato da più parti. Fino ad oggi chi doveva servirsi dell'USCA doveva infatti rivolgersi all'analoga struttura attivata tra il comune di Mercato San Severino e Lancusi. Oggi finalmente nasce il nuovo servizio di unità speciale di continuità assistenziale così come viene annunciato da Pietro Antonacchio che con il sindacato che rappresenta la CISL Funzione Pubblica aveva ingaggiato da tempo una battaglia per l'attivazione del servizio. Il sistema messo in campo si sta dimostrando fondamentale nei territori dove è nato per garantire assistenza specialistica a casa attraverso il potenziamento delle attività territoriali. Ora con il coinvolgimento anche dell'esercito e grazie anche alla massima attenzione sulla materia da parte dei dirigenti sanitari del distretto di Salerno, scrivi Antonacchio, il nuovo servizio comincerà a funzionare e a breve tutti i cittadini di Salerno avranno un punto di riferimento a cui potersi rivolgere per ogni problema riguardo anche alla presa in carico domiciliare dei pazienti colpiti da Covid. Su questa tematica oggi arriva anche un'altra sollecitazione a diramarle la Will che chiede oltre all'individuazione di un coordinatore per il Covid per la provincia di Salerno così come era già stato fatto nelle settimane precedenti anche la costituzione di un'unità di crisi interaziendale tra azienda ospedaliera universitaria ed ASLA. Sarebbe per la Will la sola capace di razionalizzare le risorse provinciali a disposizione e di costituire percorsi assistenziali. Per la Will rappresentata da Raffaele Albano e Donato Salvato è indispensabile l'integrazione tra ospedale e territorio per costruire un percorso assistenziale al paziente Covid che parta dalla presa in carico della medicina territoriale con le USCA per il paziente Covid non critico, per il 118 e per la rete dell'emergenza per il paziente con complicanze fino a delineare i percorsi delle reti assistenziali interaziendale in cui distinguere per ospedale e territori le aree Covid e non Covid.